Chiuse le liste dei partiti che sono pronti a sfidarsi nelle urne il 25 settembre prossimo. Per il centrodestra, Giorgia Meloni ha scelto di presentarsi all'uninominare della Camera in Palio all'Aquila, in Abruzzo e in cinque altri collegi nella parte proporzionale. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà schierato invece al Senato, negli istinti del proporzionale e a Milano, nella sua città. Per Forza Italia, Silvio Berusconi invece, capolista in Piemonte, Lazio, Campania, Lombardia e all'uninominare di Monza. Enrico Letta, per il centrosinistra, segretario del PD, sarà capolista nel proporzionale della Camera in Lombardia e in Veneto. L'economista Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano. C'è spazio anche per gli ex Cinque Stelle che hanno seguito Luigi Di Maio nella sessione di Insieme per il Futuro. Il ministro degli Esteri correrà per la Camera candidandosi all'uninominare di Napoli. I due leader, Matteo Renzi e Carlo Calenda, sono entrambi candidati al Senato. Io guiderò la lista in Senato in Lombardia. Toscana e Campania annuncia Renzi, mentre Calenda sarà candidato anche all'uninominare di Roma Centro. Niente uninominare per Giuseppe Conte invece che ha rinunciato all'idea di sfidare Luigi Di Maio a Napoli. Il presidente dei Cinque Stelle sarà capolista in quattro regioni e in cinque collegi per la Camera.